Se stiamo cercando un miracolo nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere con fede. La nostra richiesta deve essere una preghiera che viene dal cuore. Dobbiamo avere fiducia in Dio ed essere positivi e sicuri che la nostra preghiera non resterà inascoltata. Ripeteremo questa preghiera almeno per tre giorni o nove, come una novena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi, Signore, voglio parlare con Te, che sei la fonte di ogni cosa, che hai creato lo diverso e hai creato anche me. Voglio dirti grazie, anche se non lo faccio quasi mai. Grazie per tutto quello che mi doni ogni giorno. Sono qui, davanti a Te, e ti chiedo, Dio immenso e buono, Tu che vedi il mio cuore e la mia vita, Tu che conosci la mia preoccupazione e il mio dolore, Tu, Signore, che sai quello che non dico e che nascondo al mondo, Tu, mio Signore e mio Dio, ti prego, fai un miracolo nella mia vita. So che ho sbagliato spesso e peccato tanto, ma ho grande bisogno di questa grazia. Con la certezza che Tu mi farai questo miracolo. Ora che sento la Tua presenza, Ti ringrazio per il Tuo amore per me incondizionato. Tu provvedi alla mia vita, Mi disseti alla Tua fonte infinita e so che mi darai tutto ciò di cui ho bisogno. Sono sereno perché Tu mi aiuterai nelle mie necessità. Ora sono in pace perché io so che sono Tuo figlio e Tu, come Padre amoroso, ascolti tutte le mie richieste. Metto tutti i miei sogni e i miei desideri nelle Tue mani. So che la mia preghiera è arrivata alla Tua presenza come un profumo soave. Sento già che il miracolo che io Ti ho chiesto arriverà presto nella mia vita e se quello che desidero non puoi donarmelo perché ora non è il mio bene. So che mi darai un miracolo ancora migliore per me. Ti rendo grazie perché Tu sei un Dio fedele e vero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo e allo Spirito Santo com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. non dimentichiamo di recitare questa preghiera per almeno tre giorni o nove come una novena. Condividiamola con qualcuno che è nella difficoltà e ha bisogno di un miracolo o una grazia nella sua vita. Dio, abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia risplendere il suo volto. Amen. Grazie a tutti.